Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova lezione. Quest'oggi parleremo delle aree di lavoro, le attrezzature, gli utensili, tutto ciò che possiamo trovare in una sala ristorante e che serve al cameriere, all'addetto di sale vendita, per poter lavorare al meglio. Ovviamente queste informazioni possono servire anche ai curiosi che vogliono vedere anche come funziona una sala ristorante e quali sono gli oggetti di maggiore uso. Tutte le informazioni sono tratte dal libro di testo in uso ai nostri ragazzi, quindi potete andare ad approfondire lì gli argomenti perché io vi farò dei semplici accenni. Allora, intanto si può dire che i nostri obiettivi in questo caso sono le conoscenze, cioè conoscere la struttura di un laboratorio di sala e di bar, del bar poi ne parleremo anche nella seconda puntata, dove insieme agli stili di servizio parleremo anche delle tecniche di miscelazione. Parleremo anche delle singole aree di lavoro, non soltanto l'area di lavoro nel suo complesso, e vedremo anche alcune tipologie di clientela. E finiremo con un'opera d'arte, poi vedrete qual è. Allora, intanto si può dire che la sala ristorante ha delle caratteristiche ideali, o meglio, dovrebbe rispondere a determinate caratteristiche che sono appunto ideali. Ad esempio, deve essere allo stesso piano dove si trova la cuscina, non ci dovrebbero essere scale, ascensori, eccetera, tutto allo stesso piano, altrimenti si rallenta il lavoro, oltre al fatto che salire e scendere le scale con dei vassoi, con dei piatti, dovrebbe essere pericoloso. Quindi questo è il motivo per cui generalmente anche negli alberghi è tutto situato sullo stesso piano. La sala deve essere luminosa, con ampie finestre, in questo modo dà l'impressione, ed è proprio così, di dare una sensazione di accoglienza, di caldo. Non parliamo delle sale e ristoranti che si affacciano sul mare, parlo degli alberghi, delle località estive e così via, che consentono anche di risparmiare energia perché la luce è continuamente diffusa, tranne ovviamente la sera. E si valorizzano, grazie sempre alla luce del sole, si valorizzano anche molto i piatti. Qui ci sono alcuni esempi di sale, cioè sono tanti altri, ma ne ho messi alcuni esempi. Sala classica, vedete uno stile classico, uno stile moderno, anche qua la mise en place cambia, i tipi di tavoli, le sedie, la cuscina è a vista, ma è a vista anche il bar dove si preparano le bevande, una sala vintage che ricorda un pochino lo stile Liberty, gli anni venti, come quella che si può notare nel film La Bella Vita con Roberto Benigni. Ma ora andiamo un pochino in più nel dettaglio. Quindi queste due informazioni, già ve ne ho parlato, cucina e sala, stesso posto, illuminazione naturale, possibilmente con ampia finestra. Un altro punto importante sono i servizi igienici, sempre puliti ed accoglienti. E questo è un criterio fondamentale. A parte ci sono determinate leggi che consentono che i servizi igienici, cioè che dicono che i servizi igienici devono essere fatti in certo modo. Se qualcuno ha visto il film Tolo Tolo con Checco Zalone, capirà di quello che stiamo parlando. Poi, dando avanti, l'arredamento. L'arredamento, non parlerò di tutto l'arredamento della sala, ma soltanto di alcuni oggetti fondamentali. Le panadore o console, che sono dei mobili con cassetti, alcuni aperti, bella vista, gli oggetti si possono mettere in bella vista, alcuni chiusi, sono proprio cassetti oppure in basso. Trovate delle ante dove solitamente si mettono tovaglie, tovaglioli e così via. Il guéridon, termine francese, che vuol dire carrello di servizio, di forma rettangolare, può avere le ruote oppure, in alcuni casi, può essere fisso. E poi, ovviamente, i tavoli, che possono essere di varie misure, tondi, quadrati, rettangolari, ma vedremo meglio. Ecco, qui vediamo due immagini di panadora. Vedete, in alto ci sono gli oggetti a vista che servono, bicchieri, tazze, eccetera. Poi c'è una parte centrale, che è il cassetto con le posate, poi c'è una parte sottostante, chiusa, dove solitamente si mettono tovagli e tovaglioli, oppure, come in questo caso, altri oggetti di uso non frequente. Il guéridon è questo carrellino di servizio molto utile per sporzionare un pesce, oppure tagliare della frutta davanti al cliente. Si sposta con le ruote, oppure può essere anche senza ruote. Ovviamente, qui si parla di locali, di ristorazione, grandi, nel senso dove ci si può muovere agevolmente. Ristoranti di piccole dimensioni, in alcuni casi addirittura lo sporzionamento può avvenire in un angolo nello stesso tavolo dove i clienti stanno mangiando. Poi, ecco un altro esempio di guéridon, molto più, diciamo, raffinato e complesso. I tavoli possono essere tondi, in questo caso non ci sono tante persone che si possono accomodare, ma anche in quest'altro caso, che pur essendo quadrati, lo stesso sono piccoli. I rettangolari sono quelli un pochino che possono prevedere anche più persone, però dipende sempre dal tipo di ristorante che si vuole impostare per chi lo apre. Le sedie ci sono tutti i tipi, una volta si prediligevano queste sedie pesanti in legno, oggi invece ci sono forme più leggere e anche materiale, diverso. L'uso del mollettone. Non tutti ci fanno caso che quando si entra in un ristorante e ci si appoggia al tavolo, il tavolo in realtà è morbido, non dovrebbe essere perché ci dovrebbe essere la tovaglia. In realtà tra il tavolo di legno, tra il legno, tra il materiale del tavolo e la tovaglia, c'è questo oggetto che si chiama mollettone. È un panno morbido, può avere e fare funzioni. Ad esempio, se cade un bicchiere d'acqua, casca dell'acqua, eccetera, anziché bagnare tutta la tovaglia, viene assorbito subito da questo panno. E poi attutisce anche i rumori. Fa quindi due funzioni molto importanti. Le tovaglie possono essere di varie misure, di vari tipi, ma anche di vari colori. Una volta si prediligeva il bianco, colori chiari, ma oggi dipende anche sempre dall'arredamento del ristorante. Possono essere anche altri colori, anche più accesi, oppure in questo caso un colore sul marroncino. E poi dipende anche dal contesto, perché come si può notare, questa sembra quasi una mise en place di una colazione, per cui la tovaglia può indicare anche un momento diverso del lavoro del ristorante o dell'albergo, come in questo caso. Il tovagliolo, fondamentale, va cambiato ad ogni servizio, mentre i frangini sono quelli che si possono mettere sui vassoi oppure su un piattino. Per esempio, portare un caffè al tavolo. Il caffè al tavolo non si porta con la mano, così si utilizza un vassoio. Ma se il vassoio non è presente, non fosse disponibile in quel momento, allora si utilizza un piatto al dessert, si mette il frangino, si appoggia sopra la tazza, con sotto tazza e cucchiaino, e ovviamente la bustina di zucchero, e si porta al cliente, come se si servisse un piatto. Le posate. Le principali posate sono queste quattro. In realtà, qui c'è una posata un po' particolare, che è il coltello a pesce, perché esiste anche il coltello normale. Però sostanzialmente le posate principali sono il coltello, la forchetta grande e il cucchiaino grande. Però ce ne sono tante altre, ecco, non si ferma tutto qui. Poi nel libro ne troverete tante altre descritte. Hanno infatti delle varianti, che possono ovviamente cambiare in base al piatto da mangiare. Ora vi faccio vedere, ecco, ad esempio la forchetta, questa è quella che noi conosciamo oggi, però pare che nell'antica Roma usassero qualcosa di molto simile, con due rebbi. Questa è contenuta, cioè questa forchetta è un reperto archeologico dell'impero romano, come si trova nel museo di Padova. Mentre invece poi i Borboni, con Ferdinando IV di Borbone, egli diede l'incarico a Gennaro Spadaccini di aggiungere un altro rebbo alla forchetta. In quel periodo ne usavano anche con tre rebbi. Quella invece dei Romani era con due. Perché con quattro riuscivano a prendere meglio il cibo. Ecco, questo è un piccolo espulso storico anche sull'origine della forchetta, perché non sempre gli antichi hanno mangiato con le mani e basta, ecco. Usavano anche delle posate. All'interno del libro, alla fine del modulo, c'è l'angolo dell'arte e della letteratura. Per quanto riguarda l'arte ho messo questo dipinto, che si chiama Il Mangiafagioli. È un dipinto di Annibale Carracci, fatto intorno al 1584 e probabilmente è anche il quadro più noto di questo maestro bolognese. Oggi si trova a Roma, nel Palazzo Colonna. È interessante questo quadro perché, ora vi faccio vedere un pochino in dettaglio, ecco. Si chiama Il Mangiafagioli perché lui tiene correttamente la posata, alla destra si tratta di un cucchiaio, piatto di fagioli. Con la sinistra tiene fermo il pane e si guarda e a un certo punto sembra che stia osservando la particolarità di questo quadro, oltre al fatto che ti dimostra come si tiene correttamente la posata in mano. Dicevo, la particolarità di questo quadro è che a un certo punto colui che nel dipinto sembra guardare lo spettatore, cioè noi. Fateci caso. È interessante anche per motivi storici, perché si può notare la caraffa con il vino, che tipo di caraffa utilizzassero intorno al 1500, e anche che tipo di bicchiere da vino, che tutto sommato è un bicchiere anche elegante. E questo, poi c'è tutta la descrizione sul testo. Poi c'è la posateria speciale. Come accennavo, la posateria speciale comprende altri tipi di posate, tra cui ad esempio la figura numero 10. Che figura numero 10 sono? È una forchetta e poi una specie di coltello con una rotella. Non è facile trovare questa posata, però si usa, come avrete ben capito, soprattutto nelle pizzerie per tagliare la pizza. Poi tutte le altre troverete la descrizione nel testo. Ve ne faccio vedere alcune un pochino in dettaglio. Ad esempio queste per i crostacei, per aprire le chele di una ragausta, di una astisce. E poi c'è anche ad esempio la pinza per le lumache o le scargò. Quindi di posate speciali ce ne sono diverse. E vi potete divertire a vedere anche l'uso che è sul testo. Anche i bicchieri e la cristalleria hanno ovviamente una parte importante. Ogni bevanda, che sia l'acqua, che sia vino, che sia un cocktail, ha un proprio bicchiere. Qui ve ne ho elencati alcuni. Partendo dal numero uno, è un bicchiere da vino, un calice classico da vino rosso, magari lungamente invecchiato. Il secondo è sempre un bicchiere da vino rosso in questo caso. Il terzo è un pochino più piccolo. Generalmente il bicchiere da vino bianco è sempre più piccolo di quello del vino rosso, perché il vino bianco va servito a una temperatura fresca. Quindi deve essere bevuto, diciamo così, più velocemente. Mentre il vino bianco, scusate, mentre il vino rosso può essere anche lasciato un po' di più nel bicchiere. Anzi, perché vanno esseri ossigenati. Il numero quattro è un classico bicchiere d'acqua. Il numero cinque si chiama la flutte, il termine è francese. Flutte vuol dire flauto in francese, però è femminile. La flutte serve per gli spumanti, gli champagne brutte, quelle che hanno praticamente dove l'aspetto più importante da evidenziare è il perlage, cioè questo movimento che l'amidride carbonica fa dal basso verso l'alto. E allora hanno questa caratteristica forma. La flutte ha soppiantato in tantissimi casi l'uso della coppa champagne, che sarebbe la figura numero sei. La coppa champagne o coppa asti, detta anche coppa asti, è un bicchiere grande con una bocca larga. Perché ha questa forma così diversa? Perché in questo caso le caratteristiche da evidenziare sono altre. Sono i profumi. Il profumo dello champagne dolce è molto diverso da uno spumante o uno champagne brutto. Pochissimi profumi. Infatti la differenza è questa. I bicchieri a bocca larga hanno proprio questa capacità, cioè farti annusare, oppure esame olfattivo. Se siete dei degustatori, ecco, si sentono molto di più i profumi nel bicchiere a bocca larga. E ovviamente spumanti dolci hanno molti più profumi. Se volessi consigliarvi uno spumante dolce per Natale, probabilmente tutti mi direste spumante, asti, eccetera. Ad esempio, però, anche la Liguria o anche altre regioni producono degli spumanti dolci. In Liguria potete assaggiare il Golfo del Tiguglio spumante, ad esempio. Queste sono alcune immagini sempre tratte dal testo. Troverete la descrizione nel modulo e nella pagina 81. La caraffa con l'acqua. Questa è una caraffa con l'acqua, quella in alto a sinistra. Però, come vedete, è particolare. Sono oggetti moderni. La caraffa dell'acqua classica. La caraffa per decantare i vini. La caraffa per decantare i vini sarebbe la caraffa dove si travasa il vino rosso, invecchiato sicuramente, in questa caraffa per lasciarlo sigenare. Quella sotto è sempre una caraffa decantè, però con una forma diversa. Diciamo, un pochino con design è più spinto. Ecco, qui vedete in dettaglio. Ovviamente lo scopo è sempre quella della caraffa, è sempre quella di lasciare riposare il vino rosso e poi berlo man mano. Quindi, al di là delle forme, resta sempre la funzione principale, che è questa che vi ho detto. Questa è una classica caraffa decantè, un modello normale, diciamo così. Ora, consegne per lo studente. La prima cosa che bisogna fare, a mio parere, è prendere il libro di testo, andare al modulo 4 e andare a vedere tutto ciò che non ho detto. perché, ripeto, io ho fatto un riassunto di alcuni concetti principali, ma c'è molto di più nel libro, ci mancherebbe. Andate soprattutto a vedere i riferimenti alle posate e ai bicchieri, ok? Poi, andate a frugare nella credenza di vostra nonna, di vostra madre, eccetera, se avete più o meno gli stessi bicchieri, quella l'acqua sicuramente, però potreste avere, soprattutto nel caso delle nonne, dei bicchieri vintage, anche delle flute, eccetera. Ecco, divertitevi a vedere qua come mai sono diversi, se sono diversi. Le posate è la stessa cosa. Poi, una volta individuati, vi fate, individuati questi oggetti, vi fate una scheda, sia per le posate, sia per i bicchieri, e cominciate a scrivere le differenze. Preparate una relazione e la mandate al docente di sala. E quindi, con questo, io vi auguro buon lavoro. Sicuramente ci rivedremo con la seconda parte di questo modulo, perché come potete vedere, il modulo è composto da aree di lavoro, attrezzature e utensili. Poi, nella seconda parte, parleremo dei vari momenti del servizio. Parleremo anche degli stili di servizio, come si serve a tavola, come si usano le clips, e così via. E poi, continueremo con le nostre lezioni e cominceremo anche dal bar. Questa lezione è adatta a allievi che frequentano il primo e secondo anno dell'Istituto Alberghiero. Io vi ringrazio e vi auguro buona giornata.